Buongiorno, ben ritrovati o benvenuti al Festival delle Resistenze, a nome un po' di tutta l'organizzazione vi ringrazio per essere qui e per insomma testimoniare questa voglia di mettersi a confronto e di farlo dal vivo come un po' durante il Festival cerchiamo di fare. Ora abbiamo allestito un tendone in una piazza, l'intenzione è quella di portare i temi dei dibattiti che abbiamo un po' inserito nel programma in una ottica di condivisione aperta con la possibilità della gente di fermarsi, sedersi, ascoltare e anche confrontarsi con gli ospiti che hanno accettato il nostro invito. Questo pomeriggio parliamo di legalità, parliamo di condivisione nella legalità attraverso il tema dei beni confiscati alla mafia ma parliamo anche di molto altro e quindi lascerò poi ai nostri ospiti approfondire i temi e parleremo anche di progetti locali, ne abbiamo qui alcuni che ci racconteranno come rispetto a questi temi si può lavorare anche partendo da questo territorio. Non vi rubo altro tempo, approfitto ufficialmente assieme a voi per ringraziare Sandro Ruotolo e Beppe Pagano per aver accettato il nostro invito, veramente l'hanno accettato subito, sono tra i primi, bisogna questa informazione e quindi li ringrazio particolarmente così come ringrazio Alessandra Saletti per essere qui, aiutarci a moderare e gestire questo incontro. Per ultima cosa do sempre questa informazione di servizio soprattutto per chi sta sul palco ma anche per voi che seguirete la sua opera, cioè la presenza di Monica Diari, Schiacciapensieri che seguirà un po' tutto il dibattito e lo riassumerà in alcuni disegni. Tutte le sue opere che sono le cose più apprezzate di questo festival, noi possiamo fare qualsiasi roba, però alla fine quello che piace è quello che fa lei, li trovate anche appesi su quelle pareti in fondo, lì c'è il riassunto della giornata di ieri. Ricordo poi infine che per chi non l'avesse fatto prima di andare via c'è la possibilità di lasciare la propria testimonianza, testimonianza del proprio passaggio facendo una foto qui al nostro infopoint, si ricevono anche dei bellissimi gadget, quindi pensateci su. Grazie, buon dibattito. Grazie Andrea Brandalise, è bellissimo vedere una sala così piena, non avevo dubbi che il tema della lotta alla criminalità organizzata e della promozione della legalità coinvolgesse tanto anche noi trentini ed è davvero un piacere avere questi due ospiti speciali qui con noi in questa occasione del Festival delle Resistenze, mi dicono che sono molto carichi e che hanno davvero da raccontarci un po' della loro vita personale e anche un po' di quanto sta cambiando in questo mondo così difficile della lotta alla criminalità organizzata. Direi di entrare subito nel vivo perché il tema che hanno dato gli organizzatori, cioè questa grande e eterna sfida Stato-mafia è uno dei temi che davvero incrociano un po' tutte le nostre domande, ma ce la faremo davvero un giorno a svoltare, si riuscirà anche in Italia ad avere una, ad raggiungere questo traguardo di mettere un po' di fine a questo grosso problema che limita lo sviluppo, la crescita dei nostri giovani, della nostra società. Allora, cominciamo subito a parlarne con Sandro Ruotolo, lo conoscete tutti, non sto a dilungarmi tanto con le presentazioni giornalista del Tg3, di Rai3, noi lo abbiamo qui per parlare non soltanto di come si fa giornalismo in prima linea, che da giornalista è la prima cosa che ammiro di te, ma anche un po' per conoscere quello che è, cosa significa impegnarsi in prima persona, vedere il proprio lavoro che si incrocia con la propria vita privata in un certo senso, ma anche per avere uno sguardo a quello che sta succedendo dall'interno. Vi anticipo poi anche Peppe Pagano che invece con il suo consorzio veramente sta tentando di dare una svolta e ce lo racconterà nel dettaglio. La prima domanda che voglio fare a Sandro Ruotolo, entriamo subito nella questione, riguarda proprio il problema, il vero problema, perché non riusciamo a dare una parola fine o comunque a tracciare una linea come è stato fatto in altri paesi nella lotta alla criminalità organizzata? Perché è così difficile? È così difficile perché noi questo problema ce l'abbiamo da prima che nascesse lo Stato italiano. Noi questo problema l'abbiamo da 200 anni. È nato prima sotto il regno dei Borboni, delle due Sicilie. Napoli era la città più importante, più numerosa, più abitata e la camorra nasce nel carcere di Poggio Reale. Con gli spostamenti dei detenuti si trasferiscono una parte in Sicilia, poi in Calabria e quindi abbiamo nel regno delle due Sicilie questo fenomeno molto forte che si sta radicando nel mezzogiorno d'Italia. Con l'unità d'Italia la camorra, la mafia costituita, cosa nostra e l'andrangheta si trasferiscono e occupano il resto del paese. I più vecchi si ricorderanno quando c'era come azione di contrasto il confino per cui riproducendo l'elemento fascista di Mussolini, di mettere gli antifascisti al confino, così si pensava di isolare dal contesto le famiglie mafiose. I mafiosi trasferendoli nel resto del paese, lontano. All'epoca non c'erano i telefonini, non c'era internet. Era molto più difficile comunicare ma questi soggetti criminali una volta entrati nel resto dell'Italia oggi praticamente non è che sono delle eccezioni. Oggi il fenomeno della criminalità organizzata si è insediato nel nord. Pensiamo soltanto all'omicidio del procuratore di Torino, Bruno Caccia, avvenuto 30 anni fa, poi si è scoperto che era stata l'andrangheta. Pensiamo ultimamente al comune di Brescello, in Emilia Romagna, al paese di Don Camillo e Peppone, anche quello sciolto per mafia. Pensiamo a Bardonecchia, paese sciolto per mafia. E perché allora non riusciamo a combattere? Se ci pensiamo, se fosse soltanto una questione criminale, è vero. Lo Stato ha più armi. Se fosse una questione di armi, di potenza militare, non c'è dubbio che avrebbe già vinto lo Stato da parecchi anni. Perché in altri paesi del mondo dove era arrivata la mafia, poi la mafia è finita? Perché c'è stata una lotta e alla fine le armi hanno, con il trucchetto pure dell'evasione fiscale, della partita fiscale, per esempio il Capone è stato eliminato, è stato mandato in galera. Però dobbiamo anche pensare a un'altra cosa. Perché la mafia va negli Stati Uniti e non va in Argentina con il flusso degli emigranti? Perché la mafia va dove c'è la ricchezza. E quindi parte dal mezzogiorno, arriva in Italia, arriva nei poli dove c'è ricchezza. Perché sono organizzazioni vero terroristiche. La definizione di organizzazione terroristica ce la dà Torino, Gaspare Spatuzza, l'uomo che ha cambiato i destini, diciamo, degli esecutori e dei mandanti della strage di Via D'Amelio, dicendo che Cosa Nostra era un'organizzazione politica, cioè terroristica mafiosa l'ha definita così. Ma è anche vero che il business è il cuore del problema criminale. Lo si fa con l'intimidazione e quella ti dà l'aggravante mafiosa. State vedendo anche gli esiti, diciamo, di questa nuova mafia che è nata indigena, diciamo, di Roma, mafia capitale. E lì non è che ci sono elementi della camorra, dell'andrangheta o di Cosa Nostra. È una mafia locale, carminati con derivazioni politiche di estrema destra, ma che si è consolidata per questo elemento dell'aggravante di intimidazione. Questo è. oggi, quindi, questo fenomeno si sta ampliando, sta diminuendo. Ma qual è, diciamo, il discrimine rispetto alle altre organizzazioni criminali? Che non è una storia parallela della storia dell'Italia, è una storia che entra nella storia del nostro paese. Perché segna il rapporto con il potere nel nostro paese. Senza andare ai libri di storia, ma per noi gli anni 70-80 sono stati estremamente significativi. Vi ricorderete il rapporto che c'era nell'Italia dove c'era ancora il blocco e il muro di Berlino per cui l'Italia doveva a tutti i costi stare nell'alleanza atlantica e per, come dire, contrastare l'ascesa del riformismo italiano nel movimento sindacale da una parte o della sinistra italiana che voleva andare al governo, i governi di centrosinistra, Pietro Nenni, eccetera, eccetera. Pezzi dell'apparato filoamericani e beh, la strategia dell'attenzione nel nostro paese va riletta in questa chiave qui. Addirittura nel tentato colpo di Stato di Junio Valerio Borghese c'è stato un rapporto e lo racconta Tommaso Buscetta con Cosa Nostra. Quindi non è una mafia staccata. Dov'è che entra in crisi il rapporto? Entra in crisi nel momento in cui cade il muro di Berlino. E allora la mafia non ha più bisogno di quegli alleati di un tempo che era poi il sistema della prima repubblica e quindi la democrazia cristiana, c'è il primo omicidio eccellente in cui prendono le distanze perché stanno cercando nuove alleanze nel nuovo sistema politica, nella crescita della seconda repubblica. E allora voglio sottolineare questo elemento fondamentale. È il rapporto con la politica e con il potere che rende queste mafie ancora indistruttibili. Nel 2016 abbiamo ancora il Consiglio dei Ministri che scioglie per mafia consigli comunali nel nostro paese. E gli ultimi ad agosto hanno sciolto in Campania, in Sicilia, in Calabria. Ma vi do solo un dato. Dal 1991, cioè da quando è entrata in vigore la legge per lo scioglimento dei consigli comunali, sono stati sciolti, mi pare, se non leggo male, duecentododici amministrazioni locali. Duecentododici. Pensate al numero e pensate perché, questa è un po' la risposta alla tua domanda, perché non abbiamo ancora vinto, perché c'è un problema, se mai proseguiremo dopo, c'è un problema di rapporto con la politica a tutti i livelli. E l'altro elemento che va di pari passo con il problema criminale è la crescita della corruzione. Ecco, forse su questo problema nel rapporto con la politica ma anche un problema di vicinanza alla mafia, perché la mafia ha come interlocutore il vicino di casa, quindi un problema molto eradicato, molto vicino nella società. Io penso che Pepe Pagano potrebbe raccontarci un po' dell'esperienza in cui è nato questo progetto del Consorzio Nuova Cooperazione Organizzata. Anche un bel acronimo, perché è un po' dalle parole che si comincia anche a costruire un mondo nuovo, quindi un acronimo che sta per rinascita dalla nuova camorra organizzata. Puoi raccontarci un po' l'esperienza da cui siete partiti, qual era il substrato e dove siete arrivati adesso? Lo facciamo proprio apposta, nel senso mettere quello NCO lì era una provocazione voluta alle persone per bene e ai camorristi. Uno, addirittura, lanciamo la sfida quasi come se avessimo voluto imparare dai camorristi. Se loro si possono organizzare, perché le persone per bene non possono fare la stessa cosa? Quando iniziamo questa sfida, che nel 1 agosto 2007, se andavate su Google e mettevate NCO, usciva Raffaele Cutolo e la storia della nuova camorra organizzata. Se ci andate oggi esce la NCO, la nuova cooperazione organizzata e la storia dei beni confiscati in campagna. Quindi l'idea di rubarci anche i nomi, un po' come facevano i primi cristiani. Voglio fare un paio di considerazioni rispetto alla prima domanda perché sono fondamentali poi per il discorso che farò successivamente. Uno, il problema storico è fondamentale perché da lì si determinano tanti fattori. Garibaldi entra a Napoli ed entra a Napoli così come erano entrati in Sicilia con gli applausi dei camorristi, con il fatto che si sostituiscono i funzionari del regno con i funzionari della camorra. Gli americani sbarcano in Sicilia grazie all'accordo che fanno con la mafia siciliana e in Campania succede la stessa cosa quando sbarcano a Salerno. E poi arriva il momento del muro, cioè questo muro molto alto tra le due ideologie, quella democratica e quella comunista, dove la camorra, la mafia hanno una posizione molto forte rispetto all'anticomunismo e diventano un deterrente molto forte per il controllo del territorio rispetto a posizioni politiche che possono eventualmente predominare o eventualmente diventare maggioranze. Questo in questa prima fase ha determinato il fatto che non conveniva togliere la camorra, non conveniva togliere la mafia, era funzionare al sistema statale, alla gestione dello Stato. Vi do alcuni dati, ma giusto per riflettere. Dopo il regno delle due Sicilie abbiamo il regno d'Italia e voi immaginate che Napoli e il regno delle due Sicilie erano abbastanza floride economicamente, avevano eccellenze quasi in tutte le attività sia imprenditoriali, perché no? La prima università di agraria è stata fatta a Napoli, ci sono delle eccellenze veramente forti, quasi 6.000 scuole in tutto il regno, dopo qualche anno quelle 6.000 scuole diventano una sessantina. Per fare un buon regno bisogna creare dei buoni sudditi, meglio ignoranti. Insomma i piemontesi avevano questo tipo di impostazione, ci sono alcuni atti all'interno del Parlamento piemontese dopo l'unità d'Italia che ci raccontano che non c'era nessuna intenzione da parte dei piemontesi di fare l'Italia, ma era semplicemente allargare il Piemonte. Questi sono dati storici, andiamo ad oggi. Oggi noi quando abbiamo iniziato questa esperienza fatta di ragazzi giovani e per merito anche di altri, insomma abbiamo condiviso un pezzo della nostra storia, del nostro territorio, vengo da Casal di Principe, nella provincia di Caserta, con alcuni triestini che con Basaglia avevano condiviso la chiusura del manicomio di Trieste. Ce li ritroviamo ad Aversa perché ad Aversa c'è il primo manicomio d'Italia, il Maria Maddalena, c'è l'OPG, l'ospedale psichiatrico giudiziario e quindi c'è un fermento rispetto alla chiusura del manicomio e tutto il resto. Loro accettano una sfida di venire in un territorio difficile perché molte volte si diceva, vabbè siete bravi a Trieste perché ci sono delle condizioni sociali e economiche che vi permettono di dire questo, vorremmo vedere in altri territori. Certamente non potevano dire che il nostro era semplice come territorio. E quindi iniziano questa attività attività socio-sanitaria, noi ci occupiamo di disagio psichico, la cooperativa sociale non aveva nessuna intenzione di gestire bene i confiscati, dico la verità, non sto qui a contarvi in fesseria. Non era tra i nostri obiettivi. Perché ci ritroviamo a fare questo allora? Perché noi nel gestire i primi gruppi di convivenza che sono delle civili abitazioni organizzati dai nostri soci fruitori delle cooperative e della cooperativa, ci rendiamo conto grazie a delle banalità. Perché quando iniziamo questa esperienza anche di carattere lavorativo, noi mettemmo in conto tutti i mali di questo mondo, nel nostro territorio non funzionano le istituzioni, non va bene questo, non va bene quello. Mettemmo in conto tutto, no, pure per essere preparati. Eppure non riuscivamo a leggere però i dati positivi. E quando iniziamo ad implementare questo primo gruppo di convivenza, i nostri vicini di casa ci fecero un po' la guerra. Eh no, tu vuoi aprire il manicomio fuori casa, ma tu che vuoi fare? Quando provammo a spiegare che non volevamo fare questo, ci rendevamo conto che parlavamo vicino al muro, quindi non ci ascoltavano proprio, tutti si aspettavano in serie al killer dietro alla porta, non riuscivano a leggere le persone e vi posso assicurare che in questo non c'è cattiveria. La non conoscenza porta alla diffidenza, la diffidenza porta alla paura, sono reazioni umane, anche da capire. Andammo avanti e verificammo una cosa bellissima, che i ragazzi uscivano, dopo qualche mese vanno al bar e gli offrono il caffè, vanno per strada e gli offrono la sigaretta, vanno dal barbiere e gli aprono la porta. Da noi funziona così. C'è un'attività di relazione tra le persone molto forte, c'è un'integrazione e un'inclusione che tende ad includere le persone e non a escludere e quindi questo ci aiutava tantissimo, tant'è che da lì a qualche anno ci rendiamo conto che i nostri migliori riabilitatori sono i nostri vicini di casa. Voi immaginate che da lì a qualche anno ci ritrovavamo a mangiare dal nostro vicino i nostri ragazzi, ci invitavano i ragazzi alla festa, ma no perché c'era un sistema di affetto territoriale che creava queste condizioni, che sono ottimali per una riabilitazione di soggetti che normalmente tendono ad escludersi e non ad includersi. Voi immaginate questo e questo ci fece pensare una cosa, che tu ti puoi occupare anche di una persona, ma se non ti occupi del territorio in cui vive questa persona, non ti stai occupando di questa persona, perché le persone sono parte di una comunità e se tu vuoi far star bene una persona, devi far star bene la comunità e ti vive questa persona. E quindi potevamo fare pure le cose più belle di questo mondo, ma se chiudevamo gli occhi davanti alle problematiche di questa comunità, era complicato poi parlare ai ragazzi di dignità, di ristituzione di diritti, di partecipazione, un territorio dove la partecipazione era condizionata alla paura. Chi vuoi partecipare alla paura? E con cavolo! E allora capirete che queste dinamiche che cosa permettono? Permettono il fatto che noi ci dobbiamo iniziare a chiedere che cosa possiamo fare noi come gruppo, come organizzazione per il territorio. Prima cosa cambiare il nostro modo di pensare, quindi non cambiare gli altri, cambiare noi. Uno riuscire a ragionare in modo che la nostra organizzazione iniziasse a guardare negli altri la propria crescita. Cioè come si fa? Lo fa in un territorio dove praticamente c'è un'economia distrutta? immaginate al dopoguerra, noi adesso siamo al dopoguerra. Guardate, è complicato anche spiegarlo, ma mica c'è stata una guerra? Da noi c'è stata una guerra. E il problema è che non è una guerra che ha prodotto solo morti e ammazzati, ha prodotto un disastro di un'economia. E come si è svolto? Si è svolto che negli arresti, quei benedetti arresti che hanno fatto magistrati, poliziotti, cioè quindi hanno arrestato Sandro, Canzarraria, Seto, tutti questi signori e noi alziamo gli occhi a cielo e ringraziamo Dio e tutte le istituzioni perché si sono realizzate queste cose anche grazie all'attenzione della cittadinanza attiva, anche grazie all'attenzione dei cittadini, anche grazie all'attenzione dei giornalisti, quindi se ne doveva parlare, se ne doveva e se ne deve parlare. Però capirete che in tutto questo, se questi signori si ritrovavano a gestire un'economia, perché loro gestivano un'economia, distrutto quell'economia, adesso c'è il deserto. C'è il deserto. Quindi ci ritroviamo nella condizione in cui il rischio è che facciamo dire a quelli che vivevano con tutte le contraddizioni di questo mondo, in quelle situazioni, in modo ambiguo, chiamateli come volete, in quelle situazioni stavamo meglio quando stavamo peggio, che oggi non mangi, oggi non so che cosa dire a mio figlio, ma nemmeno questo può essere un alibi e non è questo quello che dico e non lo utilizzo per farlo diventare un alibi, però giusto per capire il fenomeno, perché anche quando c'era il lavoro c'era la camorra, non è che cambiava il sistema. Il problema è che questo sistema io da bambino l'ho visto molto legato alle istituzioni che hanno finanziato il sistema della camorra. Nel mio territorio lo Stato ha finanziato la camorra. Tu dici hai detto una parola grossa, sì signori miei, vi posso spiegare come è successo. E ci sono degli avvenimenti veramente che sono da spartiacque. Da noi negli anni 80 il terremoto ha fatto più danni dopo che prima. Il terremoto degli anni 80 ha distrutto non solo un pezzo di territorio perché sono crollate le case, ma quasi ha distrutto un pezzo di territorio socialmente e economicamente. Perché? Perché noi abbiamo vissuto, tutti quanti ricorderete il rapimento di Aldomoro, quando lo Stato decide di non trattare per non legittimare i brigadisti. In Campania rapiscono Cirillo, assessore alla ricostruzione per il dopo terremoto e lo Stato decide di trattare. E basta semplicemente che voi andate a leggere gli atti giudiziari, paga anche il riscatto, 3 miliardi di lire, spostamenti di uomini da carcere duro a meno duro. E poi la cosa più brutta, la gestione del dopo terremoto dei camorristi. Per darvi un dato, ma non è che la camorra prima degli anni 70 era la camorra di oggi o degli anni 80. La camorra degli anni 70 erano dei semplici delinquenti che gestivano dei territori che sulla paura facevano la loro forza, non erano legati tra di loro, maggiormente in Campania e diversamente dalla Sicilia, non erano legati tra di loro, non c'erano reti forti economico-sociali che potevano, ma con Cutolo tutto questo cambia. cambia perché lui organizza il sistema, lo organizza economicamente. Immaginate che con Cutolo iniziamo a vedere che la camorra si occupa dei propri affiliati, quindi ti dà l'avvocato, quindi se venga lei non ti preoccupare ci pensiamo noi alla tua famiglia, inizia a intervenire la cassa comune, quindi noi pensiamo a te e in tutto questo obbliga gli altri clan a fare la stessa cosa, perché in quel sistema o gli altri si organizzavano o venivano schiacciati e quindi obbligatoriamente si devono organizzare e nell'organizzarsi noi ci ritroviamo e tu li hai vissuti tutti, ti ricordi il periodo di Sandokan con la nuova famiglia organizzata che si contrappone a quella di Cutolo? Perché quello è un elemento centrale. La cosa importante che secondo me sta dicendo Peppe, perché se no non si riesce a capire, è la riproduzione criminale. Cioè nel momento in cui io ti arresto 5.000 persone, ma non cambio il quadro economico-sociale, ti riproduco, oggi vedete a Napoli si parla di queste paranza dei guaglioni, cioè di questi ragazzini, ci si chiede se sono camorristi o non sono camorristi. Ma è indubbio che sia questa la situazione, perché diciamo in un momento di crisi come questo, noi oramai stiamo nella crisi dal 2007, i segnali di ripresa sono minimi, è lo 03, 04, è finita la recessione, ma ci si confronta su questi elementi qui. Però il mezzogiorno d'Italia è rimasto completamente fuori da qualsiasi ipotesi. C'è stata la grande opera Expo, quindi l'area lombarda di intervento eccetera. Con il pareggio di bilancio in Costituzione, con i patti di stabilità giù, non c'è nulla. In più sta giustamente crescendo una sensibilità per l'ambiente e per la tutela della salute. Pensate all'ultima grande cattedrale che è l'Ilva di Taranto. E quindi in questa situazione qui, con un elemento di aggravamento, perché pensate alle grandi opere, noi oggi avremo bisogno di grandi opere, ma un'unica grande opera. Il recupero è l'assetto idrogeologico del nostro territorio, la messa in sicurezza della nostra ricchezza che sono i borghi, i centri antichi dei paesi, è la storia del nostro paese, è l'Italia dei comuni, delle province, delle regioni, lì che stiamo soffrendo una scossa del sesto grado che distrugge quattro comuni con 300 morti. Questa è un po' la situazione. E allora si crea, si riproduce questo sistema criminale, perché se non hai risposte economiche e sociali, con un elemento di aggravante che è la corruzione. Oggi l'ultimo grande pentito, Iovine, del clan dei Casalesi, ha detto, dottor, ma non c'è proprio al magistrato, non a me, non c'è proprio più bisogno di andare a intimidire, perché il politico lo troviamo già pronto. Se un politico è corrotto, se va a bussare e già prende la tangente, diciamo, del 3%, del 4%, se si aggiunge il camorrista, ma che problema c'è? Oggi leggevo sul Sole 24 ore, secondo il 75% degli italiani c'è una percezione che la corruzione si è aumentata negli ultimi tre anni, ma non c'è bisogno, basta leggere i giornali, sfogliarli e sapere che non c'è grande opera pubblica che non sia piena di corruzione, eccetera. E secondo noi italiani il 68% delle categorie più esposte alla corruzione sono i politici, poi ci sono i partiti, poi ci sono i funzionari che decidono gli appalti pubblici. E allora questa è la situazione che ci rende unici, è la qualità della nostra classe dirigente. Ti ripeto, noi siamo ieri sera a Bonea, piccolo paesino del Beneventano, regione, capoluogo e provincia, i grandi scontri di Camorra, il territorio campano sono Napoli, Caserta e poi c'è Salerno, ma Benevento non ha mai dato, come dire, risultati camorristici, eccetera. Eppure in questo piccolo comune è un po' di giorni, un po' di mesi che stanno avvenendo tutta una serie di intimidazioni a consiglieri comunali. Ieri sera una bomba è esplosa davanti all'abitazione dei genitori del sindaco, cioè è un quadro che, come dire, di estrema tensione con una sottovalutazione. Oramai, siccome non ci sono più i morti eccellenti, non c'è più la strategia dell'attenzione mafiosa, no? Capaci. L'ultimo omicidio eccellente è stato quello di padre Puglisi a Palermo, ma non è che c'è il profilo basso perché si continua e c'è addirittura tu oggi, come è vero che ci sono i politici corrotti e gli amministratori corrotti, è anche vero che ci sono amministratori per bene e persone che credono nella missione di servizio alla cittadinanza e che sono sotto rischio, sotto pericolo. C'è avviso pubblico che riunisce tutti i comuni d'Italia e ci sono dei dati che sono estremamente… ogni giorno c'è un amministratore sottominacciato, o la lettera anonima, o il finestrino della macchina rotta, per non parlare poi dell'altro elemento che sono i giornalisti. Guardate, anche qui, io so che anche per l'arrivo prepotente sulla scena politica del grillismo del Movimento 5 Stelle c'è questo attacco quotidiano all'informazione del nostro paese perché è un'informazione di parte, è un'informazione che sottostà al potere, ai partiti eccetera. Però noi siamo un paese democratico perché ci sta la libertà di informazione. Punto. È diventato fascismo quando c'è stato il bavaglio sulla stampa, Mussolini. Lì c'è il passaggio. Non dimentichiamocelo. Io non assolvo, ma io veramente l'idea mia della democrazia è difendere l'ultima, anche colui col quale non sono d'accordo. Abbiamo grandi responsabilità perché il problema principale del nostro paese è la mancanza di una legge sul conflitto di interessi. Adesso che è uscito di scena Berlusconi si è pensato di aver risolto il problema. No, perché il problema c'è la Repubblica e l'Espresso, il problema ce l'hanno tutti. Non c'è un editore puro nel nostro paese. Allora è chiaro, però ci sono tanti giornalisti che... cosa? Eh, però senza la libertà di informazione, la democrazia salta proprio. Attenzione. Eh no, speriamo di nuovo, guarda quanti ne siamo qui. Eh, addirittura il bisogno non c'è ancora. Oggi per fortuna non ci può essere più l'editto bulgaro, se vi ricorderete nel 2002, quando proprio Berlusconi disse Santoro, viaggi e luttazzi non devono andare in onda. Oggi c'è c'è il web, c'è internet, anche lì c'è da fare una riflessione ma non la facciamo ora. Cioè ci sono le vie di comunicazione. È chiaro che non potremo avere questo. Però attenzione, il giornalista serve nel nostro paese. E oggi siamo troppi giornalisti a essere minacciati. Non pensate a Roberto Saviano, a Sandro Ruotolo, a Lirio Abate e a Federica Angeli, ma ai tanti colleghi che stanno sul territorio, che lavorano per i piccoli siti web, per i piccoli giornali che sono quotidianamente minacciati. E ancora una volta accade pure nel nord Italia, in Lombardia, c'è la storia di Sedriano, se non ricordo male il nome del paese di una cronista locale minacciata nella ricca Lombardia. Per non parlare di Giovanni Tiziano, minacciato per un'inchiesta sull'Andrangheta in Emilia Romagna. Quindi questo è il nostro bene. Dopodiché è chiaro, oggi c'è un rischio vero di una sottovalutazione perché si raccontano di emergenze diverse, quella dei migranti piuttosto che quella della Libia, delle guerre, eccetera. Però noi vedremo che se non torniamo a far diventare centrale la battaglia contro la corruzione e contro la criminalità organizzata, a me piace più chiamarla mafia che criminalità organizzata, sto paese non uscirà mai dalla crisi. Perché dice bene Peppe, noi abbiamo fatto fuori il clan dei Casalesi, anche se non è così, ce lo dobbiamo dire, perché continuano a esserci. Si sono organizzati diversamente, minacciano ancora oggi, hanno imprenditori, hanno quella borghese. Oggi chi non si schiera in questa guerra sta già da una parte. Oggi ognuno di noi deve fare la propria parte. Ognuno di noi deve fare la propria parte. Mi piacerebbe capire bene da dove siete partiti voi e anche se tu potessi darci un'idea di come noi possiamo fare la nostra parte. Anche da qui. Allora, devo chiudere il discorso di prima, se no non mi chiedo scusa. Quando vi parlavo dell'organizzazione del sistema che Cutolo propone sul territorio, è un sistema economico, di far pagare la camorra e organizzare la cassa, così come dicevo. Questo avviene grazie al finanziamento pubblico. Io vi racconto una storia e poi io passavo a bugiardo. Diciamo che io sono un bugiardo, però voi andate a verificare quello che io dico e poi capirete se sono un bugiardo o no. Allora, io ero ragazzino quando ho assistito a una scena, mi sembrava da film, ma non lo era. Un presidente del consiglio arriva nel mio paese nativo, che è San Cipriano d'Averso, un paese vicino Casal di Principe, si mette a braccetto con Ernesto Bardellino, palesemente davanti a tutti. Ernesto Bardellino è il fratello di Antonio Bardellino, fondatore del clan dei Casaresi, già allora era nella cupola di Cosa Nostra, trattava direttamente con il cartello di Medellin, era un pezzo da 90. Il fratello era il sindaco di San Cipriano e questo nostro presidente del consiglio si fa questo bel corso di San Cipriano a braccetto, perché decise, arrivato a un certo punto, che dopo aver gestito la camorra, perché non gestire gli appalti? E loro già lo facevano. E perché non gestire anche la politica? Perché delegare qualcuno? Ma perché io non lo posso fare. E in quel periodo storico Ernesto Bardellino decise di candidarsi in un partito di governo. Per la verità ti voglio precisare una cosa, come diceva prima Sandra, la camorra non ha partiti, la camorra segue il potere, di solito segue quelli che vincono. Quindi lo preciso semplicemente per... ci sono passati tutti. Allora che cosa capita? Che questo Ernesto Bardellino si candida nelle liste del Partito Socialista di allora e l'allora socialista presidente della Repubblica, Sandro Pertini, dice mai e poi mai un camorrista nel Parlamento. Dovettero togliere dalle liste del Partito Socialista Ernesto Bardellino, dopo qualche mese, dopo le elezioni, arriva il presidente del Consiglio, l'allora Bettino Craxi e a Braccetto si fa il corso di San Cipriano con Ernesto Bardellino per dargli un segno di, diciamo, omaggio visto l'oltraggio che gli era stato fatto. Prendono il caffè al bar, noi stavamo giocando, ero un ragazzino, giocavamo al bar, giocavamo a calcetto davanti al sagrato della chiesa e vediamo questa scena e non si capisce niente. Ma con chi sta lo Stato? Stava con Antonio Cangiano, vice sindaco di Casefesenna che si rifiuta di appaltare gli appalti a clan Zaccaria e viene gambizzato al centro del paese? Sta con Tom Peppe Diana, con Domenico Noviglio, con Federico Del Prete, con i sindacalisti ammazzati, con i poliziotti ammazzati o stava con Ernesto Bardellino? E questo iniziano i primi dubbi e iniziamo a capire che forse c'è qualcuno che non dice la verità, che un po' come Penelope si tesse di giorno e capirete che è molto complicato leggere quei fenomeni, è molto complicato iniziare a parlare della questione dei rifiuti senza parlare dei rifiuti industriali del nord perché non era un problema campano i rifiuti urbani che tenevamo. Noi a Casal di Principe nel giro di pochi chilometri teniamo sette discariche autorizzate, sette, preciso, sette discariche autorizzate dallo Stato, non riempite di rifiuti urbani ma imbottiti di rifiuti industriali del nord. I camion erano targate Milano, Bergamo, quella di Giuliano, imbottite dell'acne di change. Ma c'è arrivati di tutto, eppure in televisione troverà i poveri fessi, scusate se uso questo termine, a protestare davanti ai camion. E si mettevano lì e protestavano, ma due sole cose. Ma osiamo proprio lì a sud, ci manca solo l'anello al naso perché altrimenti... ma spiegatemi voi, io sono un papà, sono di Casal di Principe, ho due figli, noi produciamo immondizia, l'ingeneritore no, la discarica no, la differenziata non si fa, ce la dobbiamo mangiare. Scusate, è un ragionamento semplice, allora siamo pazzi, ma se la differenziata volutamente non si faceva, perché non raccoglievano l'indifferenziato, la differenziata raccoglievano solo l'indifferenziato, addirittura abbiamo denunciato più volte chi gestiva i rifiuti, che non era il comune, quindi andava sul comune, il comune diceva non è responsabilità mia, andava dalla provincia, non è responsabilità mia, la responsabilità non c'era mai di nessuno e nel momento in cui erano chiuse le discariche e quindi se io metto la plastica tu non la devi portare in discarica, la puoi raccogliere, se metto il vetro lo puoi raccogliere, se metto il cartone lo puoi raccogliere. E perché tu aspetti l'indifferenziato e raccogli tutto? Si riempiono i camion, i camion non possono uscire perché sono pieni, guarda caso, e quindi non raccogliamo proprio più, si fanno i rifiuti fino al terzo piano e ci dovete vendere il termovalorizzatore. Guardate, state parlando con uno che non è contrario ai termovalorizzatori, quindi non faremo una polemica di tipo, in Germania faranno pure bene, pure qua a Trento, vi devo dire la verità, fa freddo otto mesi all'anno, anche se oggi c'è la realtà con un maglioncino perché fanno caldo. Ma a noi fa caldo otto mesi all'anno, non ne avevamo bisogno, per un motivo logico, non ne avevamo bisogno, ne aveva bisogno la società che lo doveva costruire, ne aveva bisogno le società, guardate, ed è paradossale che questo non è stato vinto dallo Stato, è stato vinto i cittadini, a me quello che dà fastidio è che l'altro pezzo d'Italia non legge la rivoluzione che sta capitando al sud, perché se non vi accodate, non la leggete, non ne usciamo, non ne usciamo, guardate. Migliaia e migliaia di cittadini in piazza che protestano per la questione della terra dei fuochi, su quei fuochi ci andavano tutti, ci passavano i carabinieri, i poliziotto, magistrati, nessuno li vedeva, finché dei cittadini non decidono di scendere in piazza, perché è impossibile, immaginate che bruciavano sempre negli stessi posti, non era complicato fermarli e bruciavano rifiuti industriali, buona parte delle industrie che ha iniziato a bruciare nei nostri territori, li conosciamo tutti, stanno tutti nelle sentenze, però il problema è che escono tutti prescritti, perché non si arriva mai a processo e buona parte di questi, sono cavalieri del lavoro e sono i vostri cavalieri del lavoro. E io vi dico, ma questi paradossi, vi leggiamo, e grazie ai 10.000 che partano da Casale con la manifestazione, poi subito 50.000, Orta Caivano, grazie alla diocesi di Averza, fiume in piena, 100.000 persone in piazza, 100.000 persone in piazza, per dire una responsabilità pubblica, non può essere una responsabilità di cittadini. Guardate, e non siamo stati nemmeno bravissimi perché voi non immaginate, perché lì si moriva? Si muore, cioè voi vedete che ti muore il parente, ti muore il cucino, ti muore la sorella, ti muore la mamma, ti muore il figlio, ti muore questa... Allora non c'è... veramente si è andato a un momento dove la gente si è esasperata ed è saltato il sistema, ma è saltato il sistema perché ci sono stati i morti, i morti che non si vedono in televisione. Le famiglie, le mamme della Terra dei Foghi che mandano 100.000 cartoline di tutta la Campania al Papa, al Presidente della Repubblica, che cosa sono se non un grido di allarme? E io vi dirò di più, guardate che tutto quello ha prodotto che lì in Campania si è iniziato un processo perché in Italia ci fosse una legge su vie coreate, che l'aspettavamo da 100 anni e però ne beneficeremo tutti. La reazione che abbiamo avuto è stata questa. Non mangiamo i prodotti campani, sono pericolosi. Quindi che povere fessi dei contadini che non hanno abbandonato le terre. Dopo il danno, la beffa! Allora, nessuno a parlare del problema. Guardate, avete sentito sempre accostare la terra dei fuochi con i prodotti agroalimentari o eventualmente con la terra? Sempre. Ma noi parlavamo di incendi, di Ariosol. Sapete che significa Ariosol? Noi, la regione Campania è una delle regioni più mappate d'Italia. Sappiamo per filo e per segno dove stanno, come stanno, dove stanno e tutto. Gli ultimi dati che ci ha dato ce li ha. La magistratura, le ASL, tutti hanno messo su questa mappa. E noi sappiamo che il 0,6% ormai è compromesso. Su quei terreni non si può fare più food. Ma il 99,4% sì. E di che stiamo parlando? Ma vi rendete conto? Cioè noi uccidiamo un intero settore agroalimentare, zootecnico? Perché? Perché non ditemelo voi. Perché qualcuno si sta permettendo di alzare la testa. Dovete essere servi, non vi dovete muovere. Perché dobbiamo parlare di un'imprenditoria malata che ha bisogno di creare monopoli, così come fa la camorra, in lo stesso modo. Perché deve vivere sul sangue dei sudditi. Questo è il problema. Perché tu non puoi proporre o parlare di differenziata nei nostri territori al 70% e se ci fai la discarica con l'altro 30% e non ci mandano i vostri rifiuti. Chi è che non la vuole? Ma se dopo sette discariche, una pressa un'altra, ogni volta fatta da un commissario diverso che ti arriva e si presenti, dice salve, piacere, sono il nuovo commissario. Non mi date responsabilità. Perché quello è tutto colpo. Io sono una brava persona. Poi finisce, si tiempie la discarica, ti manda un attimo come un commissario. E ti dice salve, io sono uno nuovo, non ho responsabilità. Gli altri hanno avuto responsabilità. vi giuro che questa volta... Ed era, guardate, era un... Oggi le comiche. Abbiamo vissuto questo. Abbiamo vissuto questo. Ed era angosciante vedere che un paese non riusciva a leggere. Quindi tu mi dici che cosa possiamo fare? Informarvi, ragionare, interessarvi. Come diceva Don Milano, a me interessa che cosa succede a Trento. A voi vi deve interessare che cosa succede a Napoli, in Sicilia. Perché siamo parte di un unico mondo. E questi legami sono... E lo dico perché... Chiudo questo ragionamento parlandovi di altro perché entro alla domanda. Lo dico perché da qui, da un bel po' pezzo d'Italia, un po' da tutta Italia, nei nostri territori, sui beni confiscati, ha una marea di giovani. Ci danno una mano, si sporcano le mani. C'è un paese che molte volte non si vede in televisione, ma è reale, è concreto. C'è, sta sul pezzo. Quest'anno, pochi giorni fa, qualche mese fa, c'è stata la Fim CISL che ha mandato un po' tutti i delegati... Immaginate in Medialmeccanici a raccogliere i popotoni. All'inizio ci sono rimasti male. Poi dopo non se ne volevano dare più. Erano rimasti troppo contenti. Eppure questa organizzazione si è posto un unico obiettivo. Fare rete. Creare ponti. Distruggere la cultura dell'ignoranza. Su cui si basa un modello economico che, guardate, è come la camorra. La camorra ha semplicemente copiato il sistema di mercato. Non vi immaginate qualcosa di diverso. Da noi ci facevano pagare la camorra senza sapere di pagare la camorra. Nel mio territorio, quando uscivamo e compravamo il latte, c'era un solo prodotto. C'era la Parmalat che pagava regolarmente la camorra e noi pagavamo il latte più caro d'Italia. Col cemento non c'erano dieci calciestruzzi. Ce ne erano tre, due lanni incendiati e ce ne è rimasta uno. Però questo è poi faceva il 15% e ce ne vende più caro degli altri. Mica tu eri costretto ad andare dall'oro. Erano gli unici. Mica ti chiedevano la camorra. Tu glielo offrivi gentilmente li pago e vi ringrazio. Era un sistema. Era un sistema. Quindi quando noi vogliamo capire questo sistema su che cosa si alimenta, su un sistema economico sociale. Lo stanno riproducendo nei vari territori. Non ve ne accorgete proprio. Non vi chiedete se questa cosa funziona perché a loro piace un sistema dove tanti pagano e pochi incassano. Dove gli interessano quelli dei pochi rispetto ai tanti. E rispetto a questo noi ci siamo messi ad interessare di mattarelli. E nel fare questo abbiamo detto che i beni confiscati sono un simbolo. Perché erano un simbolo in quel periodo storico? Ringraziando di oggi è cambiata in meglio la situazione. Perché li recuperavano e quindi li confiscavano. Prima sequestravano e poi confiscavano. Però il rischio che c'era. Tutti avevano paura e ciò ci andava diventava un simbolo ulteriore della forza della criminalità. E giustamente. E ora chi ci va? Chi ci deve andare? Allora rompendo un po' gli schemi iniziali. Oggi in provincia di Caserta abbiamo una rete di organizzazioni che si occupano di economia sociale. Che fanno agricoltura sociale. Abbiamo fattorie. Centro di trasformazione bio su un bene confiscato a Emoccia a Maiano di Sessa Orunca. Un ristorante e pizzeria sociale nel regno a Casal di Principe di Sandogan. Che oggi non sono più terre di Gomorra. Ma noi le vorremmo trasformare nelle terre di Don Peppe Mediana. E oggi a Casal di Principe c'è un sindaco che guarda caso quando uccisero Don Peppe. La Camorra stava scegliendo se uccidere lui o Don Peppe. Che si chiama Renato Natale. Subito dopo minacciò, dopo la morte di Don Peppe, di minacciò i consiglieri comunali e lo costrinse ad andare via. Gli buttarono un camion di letame fuori casa sua in pieno giorno. Gli misero una bombacarta fuori la porta. Non so quante volte ha denunciato la famiglia dei camion, la famiglia del capo dei camionisti di Sandogan. Oggi lui è il sindaco e Sandogan sta in galera. Grazie. Direi che a questo punto vogliamo iniziare a vedere quali possono essere le nostre voci. grazie. Allora io vorrei lasciare un momento, dopo questa grande testimonianza che abbiamo ascoltato, un momento per sentirne un'altra che viene invece dalle latitudini più vicine a noi, quella dei nostri giovani. Abbiamo qua due esperienze che vogliamo farvi sentire. la prima è quella di Arci, Trento e Bolzano che hanno da farci vedere un video e da raccontarci della loro esperienza. Vediamo magari se possiamo partire subito con il video. la terra è una carta in mano. Perché togliere la terra è un mafioso, significa debolino. debolino non nella parte economica, dalla parte del potere. Perché la terra è soltanto il potere, non è che gli produce al mafioso, al rendito. perché il mafioso quando arrivava qua magari si affacciava a Barcono e guardava tutta la sua proprietà. Oggi non lo può fare più, magari siamo noi che attacciamo e guardiamo il Citerreni che ritorna alla società civile. Possiamo dire che è una battaglia che ancora ha tanto da combattere. Però penso che siamo a buon punto. Noi organizziamo tanti lavori ogni anno. Gli italiani che significano da Milano a Firenze, in tutte le città del nord, vengono ragazzi. Vengono ragazzi motivati. Motivati. Significa che per noi alla fine è un aiuto che ci stanno dando. Perché alla fine loro i problemi ce l'hanno, non penso che non ce l'hanno. Però oggi loro vengono a dare una mano a noi a ci suolvere questo problema dalla mafia. Siamo qua in un posto davvero molto molto importante per tutti quelli che sono i diritti dei lavoratori. Siamo a Portella delle Ginestre con i ragazzi che partecipano ai campi della legalità. è stato un momento davvero importante e toccante. Perché ci ha ricordato, come mi ha detto, ma soprattutto ci ricorda che la lotta paga e ci ricorda anche che noi siamo quello che siamo. Questi ragazzi sono perché prima di noi ci sono state persone che hanno lottato per primi per i loro diritti. Giovanni Grifo, anni 12. Giuseppe Di Maggio, anni 12. Serafilo Lascari, anni 14. Giovanni Megna, anni 18. Castrezza Intravaia, 19 anni. Vito Allotta, anni 20. Francesco Vicari, anni 22. Vita Nora Cricchia, anni 3 anni. Margherita Cresceri, anni 37. Giorgio Busenza, anni 42. Di lingua di Salvo, anni 47. Come vedete, sono due giornate, sono tutti i giorni. I due giorni, 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 i due giorni. Allora, ci troviamo a Palermo. Di solito, quando uno arriva a Palermo, noi avremmo tanto desiderio di raccontare la storia di Palermo. della nostra città, che è ricca di eventi e che è visibile tutti i vari passaggi che abbiamo avuto. Ma di solito poi chi viene qua ci chiede di macchina. E allora noi ci teniamo a dire a chi viene qua che la nostra preoccupazione non è tanto la macchina in quanto tale, ma è la cultura mafiosa, che è quella che probabilmente non esiste solo da noi, ma esiste anche in altri posti. Quella cultura che gli adulti stanno trasmettendo alle nuove generazioni, che per strada c'è il luco, quella cultura che non bisogna vedere, quella cultura che non bisogna sentire, quella cultura che non bisogna parlare. Questo sta facendo venire fuori e nelle nuove generazioni le sta facendo perdere il valore di vedere il bello, di vedere i colori. E allora io il messaggio che voglio dare è, ragazzi, ribellatevi, guardate il bello, guardate i colori, riuscite ad apprezzare l'accombaleno e qualche volta leggetevi la storia, che fa... E' sempre bello capire da che quali sono le nostre origini. Allora da scuola, sei a contare? Come contare? Come contare? Uno, due, tre, quattro, sei a contare? Sì, so a contare. E sei a camminare? So a camminare. Contare, camminare, insieme lo sai fare? Sì, penso che sì. Allora forza, contare a camminare. Vai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 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 10, lo sai che ci capita qua? Ah un Zotano ci capita qua! 100 basi! 1, 2, 3, 4, 5, 10, 100 massi 1, 2, 3, 4, 5, 10, 100 massi E insomma Piotto, uno dei tanti E' il nostro padre Mio padre, la mia famiglia E' il mio padre Io voglio portarvi Io voglio scrivere che la madre non lo stai che in Grecia Io voglio citare Siamo a Borgoschirò perché Questo è un paesino del Corleonese Che rappresenta una serie di utopie L'utopia del fascismo Che vuole riconquistare la terra In un modo abbastanza brutale L'utopia di un ragazzo Giacomo Schirò che viene travolto dagli eventi E diventa il simbolo di un regime Che non aveva mai conosciuto perché è morto nel 1920 Andatevi a vedere la sua storia su Wikipedia Siamo qui perché Borgoschirò Che è un borgo morto adesso Effettivamente non ci abita più nessuno Dal 2000 si è andato anche il parroco Dimostra la difficoltà del dialogo Tra uomo e territorio In un contesto Come quello siciliano In cui il rapporto tra uomo e territorio Ha segnato la grande storia Tutti lamenti ma che ti lamenti Di chi hanno bastoni e tira fuori i ridenti Tutti lamenti ma che ti lamenti Di chi hanno bastoni e tira fuori i ridenti E Cristo mi rispondi dalla cruce Perché ci sono spezzati di tua brazza Chi vuole la giustizia Chi vuole la giustizia si la pazza Nessuno ormai più la parra di tira Chi vuole la parra di tira Chi vuole la giustizia si la pazza E il pubblico bene grazie volete aggiungere qualche cosa dopo che abbiamo visto questo bellissimo video per raccontarci le vostre emozioni quello che avete scoperto quello che avete portato a casa allora praticamente quello che voglio immagino hanno detto per lo più tutto hanno mostrato un po che facciamo abbiamo fatto il nostro c'è comunque allora noi nostro la nostra giornata praticamente consisteva andare nel campo la mattina e il pomeriggio andare a fare diverse attività però a parte queste cose che magari potete vedere su un articolo sul giornale spiegata meglio il fatto che noi praticamente abbiamo sperimentato la ditta delle persone che tutti i giorni combattono contro la mafia per una settimana è quello che abbiamo è quello che abbiamo provato che abbiamo provato che praticamente abbiamo incontrato la gente che tutti i giorni praticamente fa la lotta contro la mafia che che lavora nei campi che magari rischia anche la vita noi eravamo in che eravamo siamo adesso leggerò un pezzo di un diario che abbiamo tenuto che abbiamo tenuto in questi dieci giorni abbiamo così riflettuto sul concetto di eroe dare eccessiva importanza ad una persona la lontana dalla nostra quotidianità facendola sembrare impossibile da imitare non dobbiamo sentirci così lontani da uomini e donne come falcone borsellino peppino felice impastato il nostro compito invece è quello di dare il meglio di noi perché qualsiasi piccolo atto compiuto ha il medesimo valore degli altri e contribuirà alla vittoria della lotta contro la mafia io concludo sempre con una frase tratta dai nostri diari che abbiamo scritto mentre eravamo a corleone che racita portiamo a casa una sicilia diversa che resiste e non piega la testa e noi anche se in minima parte abbiamo contribuito ecco con questo volevamo concludere un po la nostra presentazione dicendo appunto che il nostro è stato un contributo e per noi è importante portarlo qua portarlo a voi e magari anche fare con voi se qualcuno ha voglia di contribuire con noi ecco grazie mille grazie grazie per la vostra testimonianza prima di ritornare a dare la parola ai nostri ospiti ne ascoltiamo un'altra che invece viene dai ragazzi del punto europa ecco marta e gianni ci raccontate che cosa avete fatto di che cosa vi occupate e di questo progetto sul beni comuni e l'economia responsabile che avete intrapreso ciao a tutti buon pomeriggio io sono gianni sono uno dei coordinatori del movimento punto europa e noi ci occupiamo detta così venire molto riduttiva di avvicinare le istituzioni europee ai giovani trentini delle scuole superiori e le università e gli studenti dell'università dei studi di Trento noi perché siamo qua che cosa c'entra un'associazione europeista tra virgolette in un evento come questo cosa c'entra c'entra che noi l'anno scorso abbiamo deciso per la prima volta di trampendere un percorso diverso dal solito cioè abbiamo deciso di visitare i luoghi di camorra di mafia di indrangheta per conoscere i nostri territori i nostri cittadini prima di conoscere gli altri cittadini europei perché questo perché noi crediamo che prima di costruire un'europa solidale e unita ci sia bisogno di costruire un'italia unita e solidale quindi grazie a questo progetto che abbiamo fatto che si intitola un'italia in comune abbiamo visto da vicino la situazione nel Casertano poi vengono confiscati dalla mafia grazie anche a Pepe Pagano che ci ha accompagnato nel nostro progetto adesso darò la parola alla mia collega che vi spiegherà più nel dettaglio cosa abbiamo fatto perché abbiamo deciso di trampendere questo percorso grazie ciao a tutti sono Marta appunto con Gianni e altri ragazzi del Movimento Punto Europa abbiamo intrapreso questo percorso con il tema beni comuni e dopo una prima fase di formazione che abbiamo svolto qui in Trentino abbiamo intrapreso un viaggio che si è svolto principalmente a Bologna e appunto nel Casertano i beni comuni che abbiamo trattato più da vicino sono stati tra gli altri anche l'economia e l'ambiente quindi cosa vuol dire prendersi cura di un bene comune come l'economia abbiamo visto grazie alle testimonianze di Pepe Pagano con la sua NCO o anche di Francesco Diana con una rete che comprende NCO e altre realtà che occuparsi di un bene comune come l'economia vuol dire contrastare la mafia quindi creare un circolo virtuoso che interrompa quello vizioso creato dalla dalla camorra e fare modo che questa comunità che è stata distrutta possa rinascere in una giusta direzione quindi ricostruire la comunità oltre a questo abbiamo appunto trattato anche il tema dell'ambiente abbiamo incontrato Vincenzo Tosti che è un membro del comitato della terra dei fuochi che ci ha detto una frase che ci ha colpito molto benvenuti a casa vostra perché quella è casa nostra come diceva bene prima Pepe Pagano è responsabilità anche nostra cioè non dobbiamo solamente per una questione di distanza territoriale avere la percezione che quello sia un problema legato a territori che non sono il nostro quindi non abbiamo responsabilità dobbiamo avere il dovere anche di informarci e quindi di riportare anche visto che noi abbiamo avuto quella fortuna di incontrare direttamente queste iniziative di farci portatori e comunicare e informarci ulteriormente alla fine del nostro percorso abbiamo avuto una serata di restituzione alla cittadinanza in cui appunto abbiamo informato Trento del nostro progetto che è stato realizzato in collaborazione con le politiche giovanili e abbiamo anche prodotto un piccolo libretto che contiene anche un video all'ultima pagina in cui raccontiamo la nostra esperienza quindi ci sono distribuiti i libretti un po' ovunque se avete voglia di sapere qualcosa di più e di informarvi su quello che abbiamo fatto potete farlo grazie grazie a voi abbiamo sentito questa voce di impegno che viene dai nostri giovani i protagonisti che abbiamo qui oggi sono protagonisti anche nell'impegno personale Sandro Ruotolo è qui con noi non è soltanto come giornalista molto noto ma è anche persona che in questa battaglia in questa lotta difficile ci ha messo proprio tutto ci ha messo proprio anche la sua vita privata mi piacerebbe che ci raccontasse adesso un po' di questo fronte di come si sta come si resiste no si resiste bene e io credo che la questione forte che è emersa oggi è lo stare insieme è il fare rete guardate i falcone i borsellino vabbè loro l'avevano messo in conto no? perché è chiaro che se io mando in galera un mafioso so di essere a rischio però non pensavano di morire è un po' come il Giancarlo Siani o tutte queste persone che hanno messo... io penso per noi della società civile a una figura come Libero Grassi che non voleva, sicuramente non voleva morire però era più importante la libertà per lui la libertà di impresa, di imprenditore, un po' ve l'ha spiegato bene Beppe quando tu sei costretto ad andare da un unico che ti vende il cemento armato non sei più libero neanche di fare l'imprenditore perché c'è il monopolio forzato e guardate gli Zagaria erano bravi nei subappalti lo sono ancora bravi nei subappalti, nei lavori pubblici noi abbiamo seguito delle inchieste giudiziarie che ci hanno portato a Milano con l'impero Zagaria, parte l'Emilia Romagna però la cosa importante è la solitudine la solitudine uccide, non la paura la solitudine più siamo e meglio stiamo questo è fondamentale e allora è chiaro che quando tu tocchi i gangli, il potere è chiaro che ti puoi far male è chiaro che Giancarlo Siani è stato ucciso perché era da solo nella provincia napoletana a fare il giornalista di strada il cronista cronista, no? il giornalista è giornalista, c'è un capitano dei Carabinieri che gli dà una notizia, lui la scrive e questa notizia gli costa la vita perché è solo perché quel giornale era un giornale per tornare al complitto di interessi era il giornale del potere era il giornale della prima repubblica a Napoli che comandava Gava, Pomicino, De Lorenzo questi erano gli uomini del potere era il banco di Napoli, era l'alta finanza e lui morì perché faceva il giornalista di strada se tu oggi racconti rischi se sei da solo Libro Grassi fu ucciso perché era l'unico imprenditore a Palermo che diceva no al pizzo ed è stato ucciso innanzitutto dai suoi colleghi che lo hanno isolato e allora il fare rete di Peppe crescere in questa cultura che non è una questione retorica ma molto dipende io non dico che i giovani rappresentano il futuro no, i giovani rappresentano il presente però crescere con una cultura dei diritti, della legalità è l'unica cosa sulla quale noi dobbiamo puntare cioè la qualità della classe di dirigente del domani perché da qui nasceranno i professori universitari nasceranno i responsabili delle asla i medici piuttosto che i direttori dei lavori o i responsabili degli uffici tecnici è lì noi dobbiamo avere lì il nostro fronte antimafia non possiamo chiedere a ognuno di noi di fare l'eroe nessuno noi abbiamo chi farà il magistrato dovrà fare il magistrato con la M maiuscola il poliziotto il carabiniere sono loro che dovranno andare noi giornalisti o raccontiamo o siamo morti o siamo morti io su questo è chiaro che non ti aspetti di finire nel mirino dopo 40 anni di prima linea però capita perché tu non entri nella loro cultura la puoi raccontare puoi far vedere la cultura della mafia della corruzione ma siccome non sei corrotto e non sei mafioso non sai quando vai a pestare i piedi e quindi ora proprio per il traffico dei rifiuti Peppe insomma la questione del traffico dei rifiuti è emblematica della come dire caratteristica mafiosa di oggi del legame con il sistema di potere noi abbiamo un'impresa un apparato produttivo un sistema produttivo italiano che secondo la guardia di finanza al 30% minimo evade il fisco allora io per smaltire il rifiuto della mia industria se sto al nero quindi in evasione un sistema di evasione fiscale parziale di elusione fiscale è chiaro che risparmio sullo smaltimento dei rifiuti è chiaro che se io porto il mio rifiuto nell'impianto autorizzato l'impianto autorizzato deve avere i soldi da me mi emette la fattura perché è autorizzato quindi io a mia volta devo emettere fattura nel momento in cui decido di non emettere fattura per evadere il fisco mi rivolgo divento un imprenditore criminale anche se sono cavaliere del lavoro frequento i palazzi che contano però ho bisogno di una struttura che poi mi risolva questo problema e quindi di imprese criminali e quindi se voi pensate che tutto il traffico dei rifiuti nasce dall'emergenza in Toscana nel settore della non delle calzature delle stoffe delle concerie nasce tutto da lì e si mette in moto un meccanismo noi vecchi ce lo ricordiamo l'Icioggelli la P2 voi giovani dovreste studiarla ma la scuola da questo punto di vista si ferma ancora non lo so un po' prima parecchio prima la seconda guerra mondiale eccetera però quindi ha un sistema di potere massonica la massoneria l'impresa i faccendieri e l'ultima ruota del carro erano i camorristi non vi preoccupate ma voi vi immaginate se questo sistema fosse arrivato al sud senza la presenza della camorra si sarebbe fermato al nord all'Arno non sarebbe e allora erano gli ultimi però se ci pensate bene è un po' come la storia della mafia e dell'antimafia Peppe Pagano è un figlio del sud il sud che produce mafia produce l'antimafia Giovanni Falcone che ha combattuto la mafia con Paolo Borsellino erano uomini del sud non erano uomini del nord si Carlo Alberto dalla Chiesa era uomo del nord ma era cresciuto da tenente da capitano nel sud però è il sud che ha avuto l'anticorpo il nord no non c'è un imprenditore pentito un politico pentito gli unici che ci hanno consentito di scoprire determinati intombamenti perché poi è ancora più complessa la questione della terra dei fuochi perché hai due fenomeni uno sotto terra e i colpevoli è il nord il centro nord del paese dell'Italia è l'impresa del centro nord poi c'è l'altro fenomeno in superficie i roghi perciò terra dei fuochi i roghi sono invece figli diciamo del sommerso napoletano cioè della piccola impresa delle calzature dei tessuti che sta nel napoletano nelle piccole case ed è tutto a nero non è che c'è un'elusione o parzialmente tutto ma è sempre la firma del made in Italy la filiera è sempre quella degli armani e delle grandi griff che poi lavorano con il sommerso per cui tu ti trovi nel vicoletto non sono a parte l'industria dei falsi ma è l'industria quella è come la storiella che c'è il made in Italy però si realizza in Cina la scarpa o il tessuto perché ti costa ti costa meno allora lì nel sommerso si crea il rogo perché non si può scaricare il collante nella zona diciamo autorizzata e quindi si brucia e quindi però attenzione il problema ce l'avete voi in casa principale perché lei discarica gli intombamenti e pensate a tutta l'area di Brescia ma io personalmente ho fatto tante di quelle inchieste nel Veneto ma il grosso problema come dice Nunzio Perrella che è il primo pentito camorrista del traffico dei rifiuti insieme a Carmine e Schiavone e che prima hanno intombato qui e poi sono scelsi giù i tumori quello che una volta era la morte naturale si muore o di cancro o di infarti però gran parte dei tumori derivano dall'inquinamento ambientale e quindi anche torno al razzo nel Beneventano o nell'Avellinese che sono le zone montuose piene di verde dove non c'è il concentramento urbano e anche lì sono andati a scavare ci vuole poco una benna si lavora di notte e si scava e si mettono i fusti noi abbiamo trovato i fusti non solo dell'acne di Cengio ma dell'industria chimica italiana sono arrivati lì e allora grazie a noi che abbiamo la prima legge sull'ecoreato ma non basta non basta questo bisogna andare avanti perché i termini di prescrizione per reati del genere sono troppo brevi perché trovare la filiera sono anni ci vogliono anni chiudo quindi è il traffico dei rifiuti quello che ha messo in moto diciamo il grande business dopo gli appalti pubblici oramai si lavora poco con l'azienda pubblica soprattutto nel mezzogiorno i rifiuti noi produciamo rifiuti ma il 30% dei rifiuti sono i rifiuti solidi urbani il 70% sono i rifiuti industriali e i rifiuti industriali di questo 70% pensate che la stima della guardia forestale del corpo forestale è che nella campagna sono intombati 30 milioni di tonnellate di rifiuti industriali nocivi e velenosi speciali e nocivi e solo in campagna se in Italia si producono 120 milioni di tonnellate ogni anno al 30% vuol dire che ogni anno 30, 40, 50 milioni di tonnellate di rifiuti industriali non sappiamo come vengono smaltiti e quindi non è solo un problema nostro perché oggi noi siamo monitorati abbiamo la risposta popolare ogni estate se andate sui social net su facebook su twitter oramai noi siamo diventati le sentinelle del nostro territorio e che poi lo stato non ci arriva a spegnere l'incendio se voi in campagna nel viottolo di campagna incendiate i rifiuti il mezzo dei vigili del fuoco non ce la fa entrare lì non riesce materialmente a entrare per cui hai il robo però noi sappiamo tutto e ancora una volta la mafia come diceva Falcone è un fenomeno umano come tale può essere ha un inizio e può avere una fine e così è la vera storia fino a quando la politica non deciderà noi continueremo a avere però con una società più a macchia di leopardo l'esperienza dei beni confescati è un'esperienza di legalità ma di diritti soprattutto questo di diritti perché nelle cooperative non si è a nero e questo è un dato che non va sottovalutato c'è l'impresa agricola le mega aziende che producono e che trasformano l'arancio di Gioia Tauro o di Rosarno lì c'è tutto il lavoro nero ma la scatoletta di un pacco alla camorra sappiamo che il prodotto è di qualità e che c'è una risposta alla crisi economica perché si assumono giovani oggi l'altro giorno sono andato a inaugurare in un bene confiscato a Eboli l'art house un'art house 50 giovani che stanno facendo dei corsi per l'arredo urbano c'è i grafici i fotografi gli artisti la bellezza noi dobbiamo alla bruttezza della della camorra e dei corrotti la bellezza e della cultura e dell'arte questa è la nostra risposta bellissima risposta davvero molto bella ecco io a questo punto vorrei sapere cosa ne pensate voi visto che abbiamo qui due grandi protagonisti se avete voglia di vedo già la signora che c'è un microfono che passa di dirci cosa pensate voi magari brevemente così riusciamo a sentirne qualcuno in più si sente? bene io ne approfitto per fare due domande guardi la mia opinione non è poco importante sono venuta qui perché penso come voi allora io a Rimondino volevo chiedere per cortesia lei ha idea se l'eventuale votare l'eventuale votare a favore della legge di penalizzazione delle droghe leggere possa essere un favore un favore alla mafia prima cosa seconda cosa sono molto molto preoccupata per la libertà di informazione anche da quando a livello molto alto molto visibile hanno rimosso Bianca Berlinguer per aver lei espresso delle riserve enormi circa il referendum costituzionale può dirmi cosa ne pensi? grazie vogliamo rispondere telegraficamente intanto magari se volete alzare la mano chi vuole fare la prossima domanda così intanto c'è ecco poi ci sono anche prego intanto che aspettiamo diciamo che la mafia il business della mafia è fare affari oggi la droga è uno dei business più forti dell'andrangheta della mafia c'è anche il fai da te ma è soprattutto quello per esempio a Napoli si uccide e c'è questo fenomeno delle paranze per il controllo diciamo del mercato della droga e sicuramente all'interno di questo c'è la marijuana c'è l'hashish poi ci sono le droghe pesanti la cocaina eccetera oggi è chiaro avere da questo punto di vista è un colpo al business della 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 camorra ora io non voglio entrare io ho la mia opinione è chiaro che però mi pongo anche il problema ma è come un po' il problema del fumo o dell'alcol eccetera ma sicuramente togli una quota di mercato alla mafia quindi io sono d'accordo con Saviano ma non solo con Saviano ma con secondo me è giusto ecco è meno è più complesso però già è lanciare un messaggio dopo di che io non è che sono per lo Stato che si mette a vendere il problema è sempre sull'uso il consumo quindi creare delle insomma non è che sono per la droga libera però sicuramente avere da questo punto di vista meno business alla mafia da me quando quando uccisero mia cugina a Napoli nel 97 allora c'era ancora molto forte il contrabbando di sigarette e allora che cosa possiamo fare non comprate le sigarette dal contrabbandiere perché il contrabbandiere alimenta e dà i sondini al killer che ha ucciso mia cugina e così la droga a parte non finanziamo la droga in mano alla camorra quindi non andiamo nelle piazze di spaccio della sanità di Vione Traiano del parco verde di Scampia e se no finanziamo questi signori io capisco che c'è un'emergenza sociale eccetera però un momento per me è fondamentale io devo anche colpire da un punto di vista repressivo non basta però io oggi voglio voglio la repressione di questi fenomeni non è l'esercito perché abbiamo visto che si ammazza nel vicolo a fianco alla camionetta con i due soldati in piazza io sono perché perché le intercettazioni telefoniche non vengono ascoltate una settimana dopo perché non si fanno gli straordinari e non c'è personale mi hanno raccontato che hanno seguito la preparazione di un omicidio con le intercettazioni solo che le hanno sbobbinate dopo che l'omicidio era già avvenuto ecco questo è quindi andiamo su queste questioni dopodiché beh su Bianca Berlinguer cioè il meccanismo per cui è stata nominata lei è lo stesso meccanismo per cui è stato nominato un altro allora o andiamo ad affrontare i meccanismi di nomina e il ruolo della politica nella nomina dei direttori se no non possiamo trovare cioè ieri Bianca insieme ad altri sono stati messi lì con lo stesso meccanismo dopo sette anni otto anni quindi non è che c'è stata e quindi su questo io dico cambiamo ma veramente anche Renzi quando è andato al governo nel suo piano era la RAI libera dai partiti e così non è perché poi il direttore generale di Olchi l'ha nominata è sempre quello il punto no? bene raccogliamo allora qualche altra domanda salve io sono rimasto c'è stato molto interessante sentire l'identificazione della mafia della Camorra delle varie mafie come sistema economico perché così è nato la mafia in Sicilia nell'ottocento era la borghesia imprenditoriale che utilizzava le terre dei latifondisti e però penso che l'unico cioè il il fondamentale comportamento che noi possiamo assumere nei confronti per sconfiggere un'ottocento per tutto il fenomeno mafioso se si può è un comportamento elettorale perché non è possibile a vari livelli ora vi posso portare ad esempio di più livelli io vengo dalla provincia di Ragusa accanto al mio paese c'è il paese di Vittoria che recentemente è salito sotto dalle cronache per sono stati indagati per voto di scambio politico mafioso Scicli è stato sciolto per mafia Scicli è stato sciolto per mafia però è stato assolto recentemente il sindaco quindi non non si sa comunque cioè queste le soluzioni sono molto molto frequenti ma diceva Libero Grassi che il problema è proprio la classe buon politico fa buone leggi cattivo politico fa cattive leggi ma a tutti i livelli il problema è che a tutti i livelli se la se singolarmente a Vittoria uno di quei signori quando era sindaco ha permesso di privatizzare l'intera piazza e fare costruire un supermercato su una piazza pubblica al capo al capo della famiglia non del clan ma della famiglia che attivamente compieva gli omicidi per il clan e se a livello regionale abbiamo avuto Cuffaro dopo Cuffaro indagato arrestato poi Lombardo Lombardo indagato poi Crocetta che ha fatto che ha fatto l'alleanza con l'Udc che è il partito da cui sono usciti che prima la democrazia cristiana insomma è un unico un unico filo e poi a livello nazionale abbiamo Mattarella per esempio che quando viene in Sicilia si mette a dire che è la Sicilia che il giornale la Sicilia è un esempio di legalità un faro di legalità quello stesso giornale che negli anni 80 quando moriva Pippo Faba che era un giornalista un giornalista di Catania che si era degnato di attaccare il legame tra politica imprenditoria e mafia a Catania quando veniva ucciso sosteneva quel giornale che lui era uno stupratore di bambine queste tutto questo sistema il sistema è il sistema politico a livello nazionale se qua si comporta in un determinato modo nel sud Italia ha un ha sempre sempre dei collegamenti quindi noi dobbiamo analizzare dobbiamo continuare dobbiamo analizzare sempre nel comportamento elettorale nazionale il partito che andiamo a votare come si comporta in tutto in tutto lo Stato cioè non come si comporta solo qui se qua il PD fa cose interesse riesce a sviluppare la nostra città ma se a livello nazionale questo partito o altri partiti hanno sono complici e sono stati da sempre complici come si può fare a far capire che capito insomma lasciamo un minuto di telegrafico per le spiega e andiamo a cercare l'altra domanda tutto il ragionamento che fai è corretto il problema è la scelta è la scelta quando la politica cioè l'indagato deve essere candidato o non deve essere candidato il colluso no addirittura perché poi tra l'altro è una questione che non riguarda soltanto una parte e tu hai ora con il Movimento 5 Stelle e la vicenda romana da una parte la vicenda di Livorno la vicenda di Parma eccetera e allora è chiaro che devi avere un codice la politica dovrebbe rispettare tu parlavi di Totò Cuffaro quando Totò Cuffaro era stato condannato in prima grado ma c'era ancora l'appello venne Casini in una trasmissione a dire io giuro che è innocente metto la mano sul fuoco e dopo di che quello va in galera a quel punto il Casini che mette la mano sul fuoco deve andare a casa e invece diventa Presidente della Camera e allora io poi purtroppo noi ci troviamo nel paese dove dobbiamo sempre aspettare per fortuna il giudice il giudice e non è possibile sono 30 anni 40 anni che aspettiamo i giudici il giudice ci ha scoperto gli elenchi di Castelfibocchi e la P2 e il giudice che deve intervenire sulla corruzione e sul Mose e sull'Expo e dovunque dobbiamo aspettare il giudice e dovremmo essere noi e allora qui c'è la cittadinanza consapevole la cittadinanza attiva perché è una battaglia che fai così cioè per fortuna che c'è l'internet ma è quella Casini che mette la mano sul fuoco e glielo dobbiamo ricordare sentiamo un attimo Peppe che voleva aggiungere qualcosa e poi telegrafico perché siamo proprio lunghi lunghi allora io ho un'idea mia su questo io ti dico la verità aspettando che qualcuno o il popolo italiano si svegli e diventa un popolo illuminato e vota la persona giusta io penso che qua si fa notte allora io la mia idea ce l'ho io immagino che noi abbiamo bisogno di un paese che non ha bisogno di Peppe Pagano io sono contro Peppe Pagano io sono contro me stesso mi dice ma tu sei pazzo ma che cosa vuoi dire vi spiego subito vorrei che l'antimafia non diventasse l'antimafia degli eroi o l'antimafia del fesso di quello che c'è lui ha denunciato e adesso cacchi su immaginatevi questo sistema e iniziamo a ragionare e immaginare così perché dobbiamo essere cittadini attivi chi è cittadino attivo è in minoranza quindi diventa il fesso della situazione scusate ma possiamo pretendere dal basso delle leggi che fanno diventare chi denuncia la corruzione come la mafia un qualcosa che conviene a me interessa che l'imprenditore che è corrotto non lavori più per la pubblica amministrazione punto è un punto ma a prescindere da chi sarà possiamo fare su questo così come ci siamo usciti sui beni confiscati su un punto diciamo non tutto perché tutto sarebbe un po' troppo ma a fine che aspetteremmo proprio tanto su alcuni punti invece determinanti chi denuncia chi non denuncia la mafia non lavora con la pubblica amministrazione punto te lo dimentichi tu e i tuoi figli quindi che cosa significa ci perdi addirittura quindi paghi il racket benissimo non benefici di nessun tipo di agevolazione paghi tutto fino al 100% tu invece denunci benissimo due sconti non uno anticipazione che ne so qualsiasi tipo di agevolazione fiscale cioè rendiamo conveniente fare la cosa giusta non trasformiamo le persone normali in eroi perché il rischio il rischio che questo paese abbia bisogno di eroi cioè voi dovesse ma a prescindere dalla bella esperienza che possiamo portare ma l'esperienza che noi ci possiamo portare alle spalle come le battaglie e le lotte dei tanti non dei pochi ringraziando Dio da Donciotti da Libera da tante organizzazioni da tanti cittadini del sud come quelli del nord se vogliamo rendere questo lavoro questa forza di passione di tanti cittadini realmente utile la dobbiamo trasformare in una risposta collettiva conveniente non voglio che i cittadini siano eroi chi lo sarà mi farà piacere ma se il 60% di questo lo fa per convenienza mi va bene lo stesso l'importante che abbattiamo la camorra cioè questo deve essere il principio cioè usiamo una logica che convenga a tutti raccogliamo l'ultima domanda perché siamo molto molto lunghi prego io vengo da Mondragone in provincia di Caserta penso che voi conosciate bene il territorio no? e a voi avete detto entrambi una cosa molto bella cioè che alla mafia va contrapposto l'esempio positivo il virtuoso l'arte il bello la cultura come vedete il fatto che invece il sud si sta sempre più svuotando di risorse positive di ragazzi che vanno via e proprio l'altro giorno ho letto un articolo insomma 600.000 sì come vedete questo questo fenomeno io soltanto cioè perché abbiamo visto tanti esempi positivi come l'associazionismo le cooperative eccetera ma come vedete questo svuotamento del sud chi assicurerà risorse umane positive al sud nel prossimo decennio allora è chiaro che l'economia che leggiamo noi l'economia alternativa è un'economia è un modello diciamo etico culturale ma non è quello che poi porta a casa io lo leggo con questo è il primo governo è il primo governo che non ha il mezzogiorno tra le priorità l'unico rappresentante del mezzogiorno in questo governo e ho detto tutto è il ministro Orfano eh no allora è chiaro che non è avere più cioè voglio dire tu puoi farmi anche eh una un governo meridionalista senza avere il ministro il sottosegretario non è una questione di poltrone però è una questione di disattenzione completa da parte eh di questo governo io ora non è che mi voglio io quindi è chiaro che quello che puoi fare è recuperare prendete l'esempio di Napoli è l'esempio di De Magistris dove ha messo dove dopo tanti anni non c'è più corruzione e camorra dentro dentro è quello che ha tenuto fede a un referendum 95% degli italiani dissero l'acqua deve essere un bene pubblico a Napoli l'acqua è un bene pubblico e quindi ha tenuto fede ha detto che non voleva l'inceneritore a Napoli e cosa Napoli è chiaro che ha mille problemi ma dovuti proprio sul tema della sicurezza la responsabilità è dello Stato però diciamo c'è questa idea di stare nella società c'è una società molto attiva a Napoli di società civile si occupano gli spazi vuoti a costo zero c'è il turismo che sta andando e che è l'unico momento diciamo di di pill per Napoli di ricchezza perché i ristoranti gli alberghi sono pieni la cultura è piena di turisti si sono chiuse le strade al traffico e si è aperta però non basta non basta perché Napoli ma non solo Napoli se tu consideri le periferie periferiche non vincerai mai non risolverai mai le questioni ma questo è tutto un problema politico di governo io sono stato all'università a Cosenza e quella è una realtà giovanile eccezionale ma poi una volta che ti laurei sei costretto ad emigrare e l'intelligenza è quella che purtroppo se tu lasci soltanto il sottoproletariato le classi marginali quindi il circuito criminale perché poi questo è la tua classe dirigente del futuro la porti fuori è chiaro per cui noi dobbiamo incominciare ragionare io dico dobbiamo fare un'idea diciamo di questa delle forze sane delle forze che si battono contro e cosa dobbiamo fare rete nel mezzogiorno io credo che il prossimo salto nostro debba essere quello di rivendicare anche le autonomie ma nel senso positivo la comunità guardate rispondere insieme è già una risposta alla crisi noi abbiamo avuto gli anni vi ricorderete gli anni in cui i piccoli imprenditori si ammazzavano per Equitalia c'era una risposta purtroppo drammatica di sconfitta soprattutto nel Veneto che poi il Veneto sta ai confini con il Trentino eccetera però il Friulie e però oggi già il fatto di rispondere insieme non è che porta a casa la cena o il pranzo però è in cominciare a vedere insieme cosa costruire a me le idee a tavolino non piacciono si sono dimostrate poi perdenti però vedere l'ex ospedale psichiatrico giudiziario occupato dai ragazzi a Napoli che poi durante la campagna elettorale per evitare i brogli eccetera si mettono a presidiare i seggi e io lo trovo un fatto di una bellezza unica cioè l'idea dello stare insieme è già una prima risposta è il creare insieme noi abbiamo le intelligenze in mezzogiorno ci sono le intelligenze è inutile che andiamo sulla storia vecchia andiamo sulla sulla storia di oggi però sono costretti ad andare perché il nord ha prelevato e perché in questo governo non ha un'idea di sviluppo noi non dobbiamo pensare alle industrie nel mezzogiorno dobbiamo pensare alle nostre intelligenze di oggi e quindi c'è il turismo e c'è il terziario c'è l'economia verde la green economy sulla quale dobbiamo puntare io penso che voi sapete che a Messina è previsto il prossimo catastrofico terremoto lo dicono gli ideologi noi abbiamo tutta la dorsale italiana a rischio e andiamo a investire le nostre intelligenze le nostre risorse in un recupero del nostro territorio perché dobbiamo fare la Tav a Lione Torino o il ponte sullo stretto pensiamo a salvare i nostri borghi e le nostre città e quindi investiamo in questo un ultimo telegrafico considerazione da io penso che quello che tu hai detto è uno dei drammi principali per cui mi fa temere che non ce la potremmo fare cioè il fatto che il sud si svuoti delle menti e delle persone competenti o capaci o eventualmente che non accettano quello stato di cose tanto da andare via quella è una cosa che mi crea una rabbia che mi fa veramente paura 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 c'è da dire una cosa il problema è che noi a queste problematiche uno non rispondiamo come paese due quando rispondiamo rispondiamo ognuno per quello che conta il proprio interesse faccio un esempio pochi l'anno scorso Matera è stata eletta capitale europea della cultura siamo stati tutti felici ci dovevamo vergognare perché a Matera non ci arriva la ferrovia ma come ci arriveranno i turisti europei ma in un paese normale ma può succedere una cosa del genere ma di che cosa vogliamo parlare poi semmai diciamo che a Matera non ci sono arrivati i turisti forse non sapevano nemmeno come arrivarci dovevano stare non la metropolitana dovevano andarci a piedi perché nel frattempo stavano a favorare l'autostrada e quindi stava tutto bloccato e dovevano andare sulle provinciali allora noi stiamo parlando di un paese che ha nel sud un riferimento altissimo guardate noi ce la possiamo fare ma abbiamo tutte le possibilità per farcela però bisogna smetterla che questo stato e questi imprenditori diventano i cinesi del mondo noi abbiamo una cosa che nessuno ci toglie si chiama agroalimentare zootecnia la mozzarella in Sicilia in Cina non la possono fare i pomodori di San Marzano in Cina non li possono fare hanno provato a farli in Belgio li hanno venduti negli USA provano a copiare tutti quelli che sono i prodotti del Made in Italy voi dovete sapere che non lo dico io uno studio ci dice che i prodotti agroalimentari quindi la cucina è il primo prodotto a cui gli stranieri associano come eccellenza il nostro paese immaginate noi che veniamo dalla campagna mozzarella pomodoro pasta noi praticamente stiamo in pole position però nel frattempo teniamo tutto un sistema economico sull'agricoltura che gira attorno a un problema senza parlare del problema anche dagli amici dei sindacati abbiamo approvato una legge sul caporalato e chi è che per favore un caporalato penso nessuno però nessuno parla che quelli esistono perché esistono i pomodori a 8 centesimi perché importiamo una marea di pomodori dall'estero e li vendiamo come Made in Italy i pomodori a 8 centesimi significa che il primo schiavo è il contadino poi rende schiavi gli altri e in un sistema di schiavo quindi c'è schiavo chi fa un schiavo più assai tutto quanto in lato scusate il napoletano e allora come vogliamo risolvere questo stato io penso che bisogna parlare di sud se parliamo di cose indispensabili parlano ancora di fondi europei abbiamo bisogno di metropolitano di collegamenti non abbiamo bisogno del ponte si può prendere è sempre lo stesso chi ha fatto il termomodizzatore è anche quello che deve costruire il ponte sono sempre gli stessi sempre le stesse famiglie possiamo dire a questi signori che gli paghiamo la pensione gliela diamo noi gratis del sud gliela paghiamo pure alle future generazioni però il ponte possiamo evitare invece di costruire il ponte in 14 miliardi di euro fanno le ferrovie in Sicilia costruiscono la metropolitana a Napoli semmai i collegamenti con Bari con Matera con Lecce e tutto il resto perché ormai Napoli sono due anni che fa il 22% di aumenti di turisti a Impuglia l'estate non ci si può andare più 25% ma di che cosa stiamo parlando le possibilità ci stanno il problema vogliamo capire quali sono gli obiettivi questo lo facciamo se iniziamo a parlare di Polis come interesse comune non aspettando che qualcuno faccia qualcosa ma lo facciamo inizialmente noi grazie bene grazie grazie ai nostri ospiti grazie Pagano Sandro Ruocolo grazie a tutti voi grazie grazie a Carissante Saletti per aver moderato grazie mille grazie a voi per essere demulti ma adesso non ve ne andate perché c'è adesso ci sarà un altro interessantissimo incontro tra una mezz'oretta quindi avete il tempo di sentire le gambe ringraziamo anche Monica Diari di SketchUpensieri come sempre fa un ottimo lavoro per i questionari potete portarli grazie alla casetta qua dell'Infopoint così magari fate anche la foto degli amici del festival grazie ancora